Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Innanzitutto l'arma di questa settimana sarà il Prospettore, un lancia granate esotico, quindi una Power Weapon, il cui perk intrinseco sarà Escavazione, tieni premuto il tasto per sparare per lanciare granate e rilascia per farle detonare simultaneamente, quindi con questo lancia granate potremo sparare tranquillamente l'intero caricatore e far esplodere le granate tutte contemporaneamente. Il perk è molto interessante, il problema è che molto spesso, tempo che spariamo le 8 granate, le prime ormai saranno rimbalzate via, quindi non colpiremo quasi mai con tutte 8 le granate. Di fatto però anche soltanto per spararne 2 o 3 per volta il perk risulta molto utile con un caricatore di appunto 8 colpi. Comunque l'arma la si riesce a sfruttare, sicuramente un lancia granate divertente è diverso da tutti gli altri, personalmente ne consiglierai l'acquisto, per lo meno per il PVE. Per la classe del Cacciatore venderà un lampone fortunato, stesso pezzo d'armatura presente anche in Destiny 1, il perk intrinseco sarà matrice probabilistica, aumenta la capacità di concatenazione di granata settante ed ha la possibilità di ricaricarla ogni volta che infligge danni. Quindi un buon pezzo d'armatura per sfruttare al massimo la granata settante della sottoclasse Fulminatore, certamente è limitato soltanto a quel pezzo d'armatura e soltanto quella granata, ma è davvero un buon torace e soprattutto nel PVP lo si sfrutterà a sufficienza, motivo per cui ne consiglierei l'acquisto. Per la classe del Titano venderà un elmo indistruttibile, il perk intrinseco è matrice transfusionale, le uccisioni ad arco con il corpo corpo attivano la rigenerazione della salute e ripristinano l'energia del corpo corpo, quindi un casco esotico da utilizzare soltanto con la sottoclasse all'assaltatore. Considerando anche che comunque l'abilità corpo corpo non la si sfrutta così tanto, personalmente vi sconsiglierei di acquistare questo pezzo d'armatura, sicuramente ce ne sono altri migliori, meno limitati e che si sfrutteranno maggiormente. Arrivando infine alla classe dello stregone troviamo l'aspetto filiano, dei guanti esotici introdotti con la maledizione di Osiride il cui perk intrinseco sarà cobratotemico, le armi si ricaricano e sono pronte all'uso molto velocemente, aumenta la gittata del corpo corpo, esattamente come in Destiny 1 un pezzo d'armatura che consente di sfruttare maggiormente le nostre armi, in questo caso aumentando anche la gittata del corpo corpo, quindi per chi predilige gli scontri arma alla mano sicuramente sarà un buon pezzo d'armatura e ne consiglierei l'acquisto, come al solito poi Xur venderà i 3 di ori e l'engramma predestinato. Dunque ragazzi per quanto riguarda lo Xur di questa settimana è tutto, come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato a vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!